buongiorno amici prima di tutto mi scuso per la situazione dei miei capelli ma capirete bene che più di un ordine più o meno ordine che si può fare in maniera domestica non si può andare visto che non ci sono i servizi adeguati quindi portate pazienza che sa come sarò fra un mese se si continua a tenere tutto chiuso così come pare si paventi bene anzi male ma andiamo avanti andiamo avanti e prima di parlare dell'argomento di giornata vorrei fare un po di complottismo perché so che a molti piace so che soprattutto di questi tempi ci sono tantissime teorie che circolano attorno anche alla vicenda del coronavirus e alcune molto divertenti altre che fanno persino riflettere ma in ogni caso in ogni caso voglio mettere il mio pezzo di complottismo anch'io naturalmente non sulla vicenda del coronavirus ma sulla vicenda del milan perché questa mattina la gazzetta dello sport ci racconta che salgono le quotazioni di pioli per la per il prossimo anno quindi una conferma del mister salgono le quotazioni di pioli notizia data alla gazzetta dello sport ha tenuto fino a questo momento a differenza di altri quotidiani e anche di altre televisioni una linea piuttosto ambigua sulla vicenda rangnick nella quale abbiamo parlato ieri e la quale parliamo anche oggi in senso correlato perché dico che ha mantenuto una posizione ambigua perché si è sempre esposta in un certo senso poi a un certo punto ha cambiato direzione oggi parla della conferma di pioli che rangnick si allontana io in tutta questa faccenda mi sono persuaso di una cosa come direbbe montalbano e cioè che ci sia una ci siano una serie di informazioni che arrivano alla gazzetta dello sport da parte di alcuni personaggi che possono essere molto legati ad esempio al nostro amministratore delegato perché perché dico questo perché la gazzetta dello sport è il giornale ovviamente essendo più importante in italia nonostante negli ultimi anni abbia subito un declino punto di vista di qualità imbarazzante ma insomma problemi loro e soprattutto premi delle relative alle vendite poi ma a di là di questo la gazzetta dello sport è il quotidiano dove gazzidis rilasciò la famosa intervista non so che diavolo oggi nella gola dove rilascio alla famosa intervista famosa intervista relativa alla alla situazione da casa nella prateria della dirigenza del milan dove tutti andavano ad amore d'accordo veramente casa milan era la casa del mulino bianco salvo poi una settimana dopo sulle stesse colonne dello stesso giornale trovare l'intervista di boban e quindi questo mi fa un po sospettare perché mi fa un po sospettare che dietro alle notizie della sospettare di ragniche che come vi ho detto ieri secondo me arriverà ci sia un po la mano di alcuni personaggi del milan che vogliono spingere fino a quando non ci sarà l'ufficialità le notizie nella direzione della del nulla di fatto con il manager tedesco per i motivi che ben sappiamo ve la butto lì ve la butto lì considerazione di questa mattina vediamo invece legandoci alla questione di ieri allora legandoci alla questione di ieri ci sono in ballo alcune opzioni relativa alla possibilità che rang nick non faccia anche l'allenatore a tal proposito mi avete fatto molte domande ieri vi ringrazio sui nomi possibili nomi da mettere in panchina insieme al manager tedesco a tal proposito ho fatto un uno scritto un messaggio in fissato in cima ai vostri commenti nel quale vi do tre risposte ma oggi voglio riproporre le in questo video a favore di chi ieri non ha non l'ha visto o non ha letto quindi ci sono secondo me tre possibilità la prima possibilità è che ragni faccia anche l'allenatore cosa che io escludo personalmente perché ritengo che la come dicevo ieri l'accettare un'avventura come quella del milan attuale abbia bisogno della massima concentrazione da un punto di vista manageriale non credo che gazidis nonostante l'intenzione di importare in italia una struttura manageriale stile inglese si voglia spingere nel rischio così tanto in là da consegnare panchina e scrivania alla stessa persona quindi io personalmente la escluderei restano allora due alternative sul tavolo che sono un tecnico italiano e un tecnico o un tecnico straniero sul tecnico italiano ovviamente dobbiamo andare a cercare un profilo che possa essere quanto più compatibile con il calcio di ragnic quindi con l'idea di calcio che poi verrà messa in pratica attraverso la campagna acquisti fatta dal manager e quindi con l'acquisto dei giocatori a lui graditi per il suo la sua mentalità io ho scritto de zerbi mi rendo conto che che de zerbi insomma non è che proprio scaldi i cuori magari a qualcuno piace in ogni caso mettiamola così se prendi de zerbi e lo metti a lavorare in maniera serena con un manager che fa il suo lavoro non è detto che le cose vadano subito a remengo come è successo quest'anno cioè non è detto che la che ci che non ci sia dialogo che non ci sia dire se l'idea di calcio è comune e si costruisce una squadra per fare quel calcio potrebbe anche essere quindi diciamo che de zerbi mi viene in mente come persona mi viene in mente anche perché perché naturalmente qual è il punto il punto riguarda quello che dicevo adesso cioè lo scontro di personalità se noi consideriamo che un allenatore più ingombrante ho fatto il nome di spalletti possa come dire possa trovare terreno di scontro dal punto di vista di personalità perché qui l'idea secondo me che si è fatto gazzidis e che ci vuole una figura unica che coordini che decida sulla base di naturalmente dell'accettazione delle condizioni della proprietà e che faccia quello che deve fare cioè in pratica lui deve lui gazzidis deve occuparsi di altro vuole fare altro vuole fare il taglio dei costi vuole mettere a posto il bilancio vuole parlare con la uefa non vuole più interessarsi di cose di campo secondo me non vuole nemmeno più entrare in faccende di no costa troppo non l'ingaggio troppo alto lui vuole andare per la sua strada quindi vuole trovare una figura che faccia questo questa è la mia idea chiaramente però ripeto l'allenatore che poi dovrà essere messo sotto ranking che dovrà essere anche passate nel termine vagamente aziendalista ecco adesso io lo so che le madonnine cominceranno a lacrimare sangue e così tutti i tifosi del milan però questo potrebbe essere se no seconda ipotesi secondo ipotesi allenatore straniero naturalmente tra i nomi degli allenatori spendibili all'estero ci sono quelli emergenti sono quelli emergenti quindi tenag dell'ajax marco rose del borussia manchenglabak jesse marsh il tecnico del salisburgo tecnico americano molto considerato da quelle parti considerato un nuovo club ma è il 64esimo nuovo club della storia del calcio l'amico enrico sul canale telegram giustamente mi segnala anche il nome di tedesco l'ex tecnico dello schalke 04 che tra l'altro secondo me non ha proprio le caratteristiche complete del gioco di ranknik però però una vaga idea potrebbe anche vera comunque sono tutti i tecnici diciamo che vanno in quella direzione e che potrebbero essere nomi spendibili ovviamente ovviamente sono tutte scommesse perché sapete che qui poi ci sono le due corsie dell'autostrada cioè quelli che pensano che ci voglia l'innovazione nel senso che ci vogliano anche tecnici tedeschi che vengano in italia e io sono tra questi e poi ci sono quelli che invece ritengono che i tecnici in italia sono inevitabilmente inesorabilmente destinati a fallire e quindi non potranno ottenere nessun tipo di risultato che vanno sulla corsia parallela quindi qui poi si apre il dibattito naturalmente queste sono le situazioni ripeto a monte di tutto a monte di tutto secondo me gazidis vuole elevarsi dall'impaccio di dover andare a mettere il naso o per meglio dire a mettere ostruzione a mettere un freno alle volontà dei dirigenti vista la sua esperienza con con maldini boba né quant'altro preferisce adesso impostare la squadra in un altro modo cioè manager di riferimento che accetti le condizioni sotto di lui un tecnico da lui scelto che faccia un certo tipo di calcio ma che non abbia a sua volta pretese eclatanti e avanti così sarà un altro fallimento non lo so lo scopriremo solo vivendo però io come vi dico sempre non dico che sono ottimista è perché dopo aver visto il milano degli ultimi anni è ben difficile esserlo però non sono nemmeno pessimista osservo attendo e vedo che cosa succede alla prossima ragazzi